Benvenuti in questo nuovo video, oggi vi farò vedere delle attrezzature sia per la mosca sia per lo spinning partiamo subito prima di iniziare con il video ci tenevo a ringraziare Extra Fishing Gear grazie mille per avermi mandato questo bellissimo pacchettino e per aver reso questo video possibile Extra Fishing Gear è un negozio da pesca online veramente ben fatto e con prezzi bassi dove potete trovare tantissimi tipi di attrezzature ma soprattutto i ragazzi di Extra Fishing Gear sono specializzati nella distribuzione del marco Flumen e di tutte le attrezzature per la pesca alla trota in torrente a ultralight in particolare oggi ragazzi vi andrò a far vedere due kit veramente particolari che sono stati creati per chi si vuole approcciare allo spinning in torrente o per chi si vuole approcciare a questa nuova tecnica nata negli ultimi anni che è lo spinfly lo spinfly è una tecnica ibrida tra mosca e spinning per pescare a spinfly ci vogliono delle esche molto particolari che adesso vi andrò a far vedere allora ragazzi prendiamo questi due kit che hanno deciso di spedirmi direi di iniziare dalle esche da spinfly eccole qui ragazzi fornite in questa bellissima custodia in plastica con doppio scomparto questo kit ragazzi viene chiamato benvenuto nel fly style è un kit perfetto per chi vuole avvicinarsi a questa nuova tecnica che è lo spinfly infatti possiamo trovarci tantissime varietà di esche per diversi usi ma adesso ve le farò vedere meglio ovviamente ragazzi questi tipi di esche le potrete provare in tantissime tecniche infatti sono estremamente versati nel kit ragazzi possiamo trovare tantissimi tipi di mosche queste ragazzi in particolare sono le spin nymph sono tutte fornite di questa fantastica elichetta che rotia sia nel recupero sia nella caduta dell'esca questa coda a falcetto olografica e poi guardate ragazzi che dettagli qui abbiamo una testina in tubesteno infatti ragazzi pesa abbastanza nonostante le sue dimensioni poi qui abbiamo questo bruco sempre con questa elichetta poi troviamo anche delle mosche un po' strane sempre elichetta e testina in tubesteno rossa questa ragazzi la potete far lavorare in tutti gli strati d'acqua recupero lento, recupero veloce nel kit possiamo trovare anche delle mosche veramente strane come questa guardate questa coda è in metallo legata direttamente al pelo è molto resistente infatti credo che internamente sia rivestito di corda testina olografica qui abbiamo il tubesteno e sempre l'elichetta questa ragazzi è veramente fichissima non vedo l'ora di provarla poi ragazzi qui abbiamo la jig nymph per definizione guardate questa qui ragazzi questa è una mosca detta yellow sniper ha proprio le ali, le zampe sempre l'elichetta è veramente incredibile come Flumen sia riuscita ad imitare questa naturalezza anche in delle esche da spinning sono esche nate per il torrente ma utilizzarle in un canale, in un laghetto, in un fosso sono veramente molto attrattive e funzionali la marca Flumen cerca sempre di inventare esche poco invasive per il torrente infatti ha ideato questo natural organic design e notate il dettaglio qui abbiamo questi peletti sul fondo che sembra proprio un insetto vero poi ovviamente ragazzi abbiamo anche delle mosche molto più piccole come questa che è veramente minuscola ma nonostante le sue ridotte dimensioni è veramente ben fatta quindi ragazzi se volete approcciarvi a questa nuova tecnica che è lo spin fly vi consiglio assolutamente il kit di Flumen benvenuti nel fly style quindi detto questo direi di passare al prossimo kit qui ragazzi abbiamo un kit di rotanti Flumen sempre fornito in questa bellissima scatola questa ragazzi è veramente bellissima è grande infatti è più grande della mia mano questi ragazzi non sono assolutamente dei rotanti normali sono rotanti nati per la trota torrente infatti hanno l'amo singolo senza ardiglione ma potrete utilizzarli tranquillamente in tantissimi ambienti andiamo subito a vedere questi rotanti sono rotanti sì con la normale paletta da rotanti ma hanno anche quest'elica che fa da timone per reggere la corrente ne possiamo trovare veramente di tantissimi tipi dalle misure più grandi come questa alle misure più piccole questa ha solo l'elichetta per una presentazione ancora più naturale guardate questa ragazzi questo secondo me il leghetto fa veramente una strage questi ragazzi all'apparenza possono sembrare cucchiaini rotanti assolutamente normali ma guardate hanno una sorta di cavalierino che fa rimanere la paletta sempre in questa posizione infatti non si può cambiare girerà sempre in questo assetto sono molto strane queste esche non vedo l'ora di provarle spero di farlo presto nel kit sono presenti anche questa sorta di camole guardate con doppia elica composta da queste sfere di plastica e possiamo trovare in varie correlazioni tipo questa che mi piace tantissimo con queste due sfere arancioni che ridanno proprio alle uova di una trota quindi ragazzi se volete approcciarvi alla trota torrente e allo spinfly vi consiglio assolutamente questi due kit della flumen li potete trovare su www.extrafishinggear vi lascio il loro sito naturalmente in descrizione niente ragazzi questo è il primo episodio di questo unboxing infatti ragazzi il pacco è ancora bello pieno quindi noi ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi